E si va oggi a Sant'Agata d'Esero in provincia di Cosenza a vedere la Sagra della Castagna, la sagra in assoluto più antica della Calabria. Ci vediamo tra poco, nonostante il brutto tempo, non ci ferma nulla e vado a riprenderla per voi. Sono appena sceso dalla macchina e già subito si sente aria di festa e d'allegria. C'è tantissima gente e mi imbatto verso il centro, verso la piazza. C'è un immenso piacere, partecipa alla 45esima sagra della Castagna in questo splendido paese, Sant'Agata d'Esero, luogo abitato da gente accogliente e maestosa. Tutti i vicoletti del paese sono pieni di bellissime bancarelle che vendono soprattutto oggetti di artigianato calabrese. In questa per esempio ci sono pignate di tutti i tipi per cuocere al fuoco. Ed ecco la protagonista della festa, la castagna. Vedremo un sacco di preparazioni oggi, come ad esempio questo pane realizzato con farina di castagne, grano e miele. In quest'angolino invece trovo subito una signora che abilmente prepara le crespelle calabresi fritte davanti ai miei occhi. Bellissime e profumatissime, guardate che abiltà. E siccome l'aria è fresca, la fonte di riscaldamento è sempre presente, il vino rosso. Che cosa abbiamo qua? Cacciocavallo impiccato, viene sciolto sulla fetta di pane, condivente a piacimento. Dindolo, 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 il cacciocavallo a chi lo do? Dindolo, dindolo, il cacciocavallo a te lo do? Cacciocavalli che vanno su, cacciocavalli che vanno giù, mi che ne muovi tutte le catene, se la bruschetta non viene così bene. Cacciocavallo, cacciocavallo, cacciocavallo. Dagli stand di artigianato inizio a imbattermi in questa viuzza dove ci sono tantissimi stand con specialità gastronomiche calabresi. Guardate qui che bel guanciale. Ancora peperoncino, cipolle, aglio, tutto rigorosamente locale, come le olive che siamo nel periodo giusto. E prima di andare via da Sant'Agata a Tesoro dovete assolutamente acquistare il castagnaccio e il pane di maruggio. Quindi io vado nella prima panetteria che trovo. Signore mi hanno detto che, buonasera, innanzitutto, prima di andare via bisogna assolutamente portarsi a casa il castagnaccio e il pane di muraggio, miraggio, maruggio. Me lo fa vedere quale è? Viene fatto con l'avene di castagna, non contiene farina 00 quindi va bene anche per i celiaci, contiene olio, extravergine d'oliva, uva passa, pinola e cioccolato. E questo maruggio? Allora il maruggio è un pane tipico dove noi facciamo anche la polpetta di maruggio, facciamo anche la sagra della polpetta di maruggio a febbraio. Allora mi sa che lo vado ad assaggiare da qualche parte, queste polpette sicuramente stasera le troverò. Sì, con queste vanno le polpette di maruggio, che sono buonissime, è un pane antico con panina di mais. Siccome io ho quasi un'oretta e mezza di viaggio, qualche portatile da sgranocchiare in macchina cosa mi consigli? Allora, sono gli scaldatelli con anice salvato. Ah, questi sono i famosi scaldatelli all'anice. Sì, vengono fatti una a una, vengono scaldati e impornati. Perfetto, allora me le dai 7 chili così li mangio nel viaggio. Perfetto. Grazie. Adesso mi addentro un po' nei piccoletti, dove troverò sicuramente degli stand con tantissime cose buone da assaggiare. Allora iniziamo da qui e andiamo a vedere cosa c'è di bello oggi da vedere a Santa Catadesoro, alla Sagra della Castagna, la 45esima Sagra della Castagna. Ok. Buonasera, carissimo Gianluca. Buonasera. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Posso far fare una degustazione di alcuni spuntini. Ah, con piacere. Vieni, vieni con me che ti faccio vedere una cosa. Non appena mi vede la gente, subito mi invita a mangiare. Non ho capito per... Oh, mamma mia. Mamma mia cosa vedono i miei occhi. Ma dove lo troviamo uno che degusta adesso? Dove lo possiamo trovare? Dove lo possiamo trovare? Ma se insisti... Taglio? Insisti? Come no, ci mancherò. Eh vabbè, allora mi sacrifico per voi ragazzi. I primi che mi ispirano sono questi spaghetti alla chitarra e la particolarità che sono fatti con la salsiccia sotto grasso. Quindi non una classica salsiccia fresca, ma salsiccia sotto grasso, che è dieci volte più buona. E io li vado ad assaggiare per voi. Guardate. Sono ancora fumanti. Mi ricordano quelli che faceva mia nonna, veramente. Sono buonissime. Poi lo strutto, il grasso, è il conservante in Calabria tuttora attuale, che preserva davvero l'artigianalità di ogni prodotto. E le devo mangiare un'altra forchettata ragazzi. Sono troppa roba da assaggiare, troppa roba da farvi vedere. Allora, queste qui, queste qui sono le polpette di Marruggio. Sono veramente tipiche di Sant'Agato d'Esaro. Allora, andiamo ad assaggiare queste belle polpette. Guardate. Lo so che mi state invidiando, specialmente i sant'agatesi che sono all'estero. Faccio questi assaggi per voi, ve li dedico tutti. Ve l'avete chiesto in tanti di venire a Sant'Agata a testimoniare questa bellissima sagra. E ci sono venuto davvero con immenso piacere. Sono stato accolto benissimo dalla gente di Sant'Agata. e vado ad assaggiare questa bella polpetta per voi. Si scioglie in bocca, si scioglie in bocca. Vedete che ci va tutta in bocca questa? Eh? Ci provo? Troppo buone, troppo buone. E qui ci va il vino rosso, eh? Le patate prendono il gusto dei peperoni. E se avete la fortuna di beccarne qualcuno piccante, vi darà ancora più gusto, gusto intenso di Calabria. E guardate il pane casereccio. Guardate che alveoli che ha. Lo voglio proprio assaggiare. Pane di grano con farina tipo 1. Farina tipo 1 macinata a pietra. Cosa ci possiamo mettere qua? Ci possiamo mettere un po' di rapa e salsiccia. Guardate qui. Questa è la salsiccia fresca che viene soffritta insieme alle cime di rabe. Questo qui invece è il peperone crusco che conoscete benissimo. Che qui a Sant'Agata si chiama Zafarano. Sentite il rumore che fa. Obbligare. うm. Uuuuh. E questo è il soffritto, soffritto alla Santa Catese. Questo qui è un taglio unico di carne di maiale. Poi ci sono i peperoni essiccati che poi vengono cotti insieme alla carne, olive, olive nere. Questa è la parte del maiale che si alterna a grasso e carne, con la parte croccante del nervetto. E queste si mangiano rigorosamente affiancati dai peperoni arrostiti. Quindi si fa un bel bocconcino così. Si prende un po' di peperoni, si mettono sulla carne. Guardate che forchettata. Ho preso carne, peperoni e oliva nera. Qui ci si mette anche l'origano. Mi raccomando, è olio extravergine buonissimo. Davvero si scioglie in bocca. Purtroppo la sagra è ancora lunghissima. Devo andare ad assaggiare qualcosa di dolce. Però vedendo qui il dolce tipico, i bocconotti alle castagne, almeno uno lo devo assaggiare adesso, subito. Guardate qui, cuore di castagna. Guardate, pasta frolla fatta rigorosamente con lo strutto e un cuore morbido di castagna. È una delizia. Finirei volentieri tutto il tavolo, ma ho altre cose da farvi vedere. Adesso andiamo ad assaggiare. Mi hanno detto che c'è un gelato alle castagne. Andiamola ad assaggiare, vediamo. Questa è l'unica nebbia che c'è in Calabria, quella delle castagne. Altra nebbia non ne abbiamo, ragazzi. E qui in questa enorme padella vengono preparate a ruota libera le caldarroste per tutti gli ospiti di Sant'Agata d'Esero. Qui trovi i peperoni secchi, damigiane impagliate, funghi essiccati e i fichi secchi. In questo periodo si fanno le crocette, per cui non possono mancare. Qui invece questa bellissima griglia piena di carne e ancora l'artigianato calabrese con i nostri piatti tipici. Qui possiamo trovare anche dei fichi immersi nel cioccolato fondente al momento, con una bella spolverata poi di granella di nocciola sopra. Gli ho assaggiati e sono davvero buonissimi. Arrivo, arrivo subito. Arrivo subito, arrivo subito. Siamo qui a Sant'Agata e sono già stato rapito dalle specialità dolci di... Bar centrale di Marasco e Liliana, di Sant'Agata, provincia di Cosenza. Ok, allora vediamo che cosa ci fa vedere Liliana qua di buono. Questo è un castagnaccio fatto con tutta la polpa di castagna. Castagnaccio con polpa di castagna al porno. Questo è invece un tronco di castagna, che è il vero è un tronco che viene fatto con tutta la polpa di castagna, con tutte le furmine, il fungo, la castagna e via. Questi sono i ricci che portano fortuna. Portano fortuna a tutti i sant'Agatesi, a tutti gli italiani che ne hanno bisogno. Ce ne saranno parecchi che ti guardano da tutto il mondo, quindi... Questo è il fatto con la polpa e con le scagliette di mandorla. Ok. Questa è la marmellata di castagna. Buona, spettacolare. Che se ci fanno i gino l'anno d'anno. Spettacolare. Adesso andiamo al gelato. Pure il gelato, pure il gelato. Abbiamo anche il gelato, io mi intrufolo ragazzi, mi intrufolo. Ok. Il gelato alla castagna. Che dite, lo assaggio ragazzi? Sì, assaggiate il gelato alla castagna. Prego. È spettacolare. Sembra fatto di castagna. È fatto di castagna. Vedete la madia calabrese, sempre presente nelle tradizioni locali. Se questo video oggi da Sant'Agata d'Esero vi sta piacendo, è anche merito di Maurizio Arcuri, che è stata la persona che mi ha invitato alla 45esima Sagra delle Castagne di Sant'Agata. Quindi volevo farvelo conoscere e do a lui la parola per presentare questo bellissimo evento. Allora, intanto sono io a ringraziarti e a dare il benvenuto in questo momento a tutti coloro i quali seguiranno questo momento. Intanto voglio prima di tutto ringraziare io e te per essere qui, ringraziare la Prologo che ha dato effettivamente tramite la direzione artistica da me curata, ha dato la possibilità a te di essere qui e di portare questa testimonianza bellissima di questa 45esima Sagra della Castagna, che sta volgendo alla conclusione. È una saga un po' bagnata, ma sicuramente felice per la pioggia che ha caratterizzato la giornata di ieri e quella di oggi, però abbiamo avuto tanti ospiti che ci hanno raggiunto come al solito dal terreno, dalla Puglia, da tutta la Calabria, quindi per noi comunque sia è stato sempre e sempre sarà un grande successo. Invito tutti i fan e i follower di Sfizzi di Calabria a venirci a trovare naturalmente alla nostra 46esima Sagra della Castagna, che è la più antica di tutta la Calabria. Grazie a tutti. Essendo a Sant'Agata d'Esero non potevo che presentarvi la padrona di casa di questo bellissimo borgo. Lei è effettivamente Sant'Agata. Potrà sembrare per voi che si tratti di una statua di bronzo, ma assolutamente no, non credevo neanche io ai miei occhi, ma questa qui pensate un po' che è una statua assolutamente realizzata in legno, tutta legno scolpita a mano. E io oggi ho la fortuna e il piacere di farvi conoscere chi l'ha realizzata insieme a tante altre opere eccezionali. Vi presento Salvatore Gallo. Ho letto un libro che l'ha fatto Don Antonio Mondalto, un prete che è stato 53 anni a questo paese, ho visto delle pagine scritte della storia di Sant'Agata e mi sono proprio... Sentite emozionato di questa storia. Ecco, lei è una ragazza bellissima di Catania che era scappata all'invasione musulmana perché un guerriere voleva sposarla. Lei non l'ha voluta perché era consecrata a Dio. Arrivata a questo posto, rifugiata, io mi sento di essere della comunità dove lei ha creato la comunità di Sant'Agata. Mi dicevano che vedo che ha le mammelle asportate. Ci vuoi spiegare come mai? Eh, quando questo guerriero non l'ha potuto sposare, una volta che l'ha ritrovata, gli ha tagliata le mammelle per non sposarsi più con nessuno. È una storia emozionante e allo stesso tempo travolgente. Quando sentite questa scrittura su questo libro, io mi è venuta un'ispirazione bellissima di fare lei, proprio di scolpire lei con questa modalità. Vedo i costumi bellissimi, soprattutto questi femminili caratteristici. Io, siccome il canale è visto un po' da tutto il mondo, volevo chiedervi la cortesia di dedicare a chi purtroppo è lontano dalla Calabria per tantissimi motivi, un vostro pezzo, così da metterlo come chiusura di questa bellissima giornata. Ma possiamo fare una tarantella tradizionale se siamo d'accordo. Siamo d'accordo tutti che fanno una tarantella tradizionale, benissimo. Ok, questa la dedichiamo a tutti gli amici di Spizzi di Calabria che stanno fuori Calabria. E cos'altro aggiungere cari amici, spero che questa piccola mia testimonianza vi abbia fatto venire la voglia di venire a respirare questi profumi qui direttamente a Sant'Agata d'Esaro e un po' in tutta la Calabria perché è piena di queste realtà, per cui mi invito veramente a seguire ancora il mio canale, porterò ancora altre testimonianze. Per sostenermi è semplice, basterà iscrivervi al canale, attivate la campanellina così seguirete anche i prossimi video. Ringrazio il gruppo Folk di Sansosti che vi ha voluto omaggiare di questa bellissima tarantella e al prossimo video! Ringrazio il gruppo Folk di Norte Grazie per la visione!